Non è riuscita a sfuggire ad un controllo dei carabinieri una coppia di fidanzati appostata ieri intorno a mezzanotte e trenta nella zona di Borgo Trebbia di fronte a una discoteca in attesa di qualche cliente interessato ad acquistare droga. I militari avevano notato dei movimenti sospetti vicino un'automobile ferma di fronte al locale chiuso. I militari si sono avvicinati al veicolo con a bordo un ecuadoriano di vent'anni residente nel pavese e una trentenne piacentina e sotto l'autovettura hanno trovato appoggiati sull'asfalto dei calzini con all'interno degli ovetti di plastica che a loro volta contenevano 10 dosi di eroina e 11 di anfetamina. I ragazzi si sono detti estranei alla vicenda ma addosso al giovane sono stati trovati 100 euro in contanti e nelle loro rispettive abitazioni sono stati rinvenuti un bilancino di precisione delle buste di plastica ritagliate probabilmente utilizzate per confezionare la sostanza stupefacente. I fidanzati entrambi con precedenti penali sono stati arrestati con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.